Era scappato di casa e stava rincorrendo un'anatra. La fuga di un bellissimo esemplare di razza giapponese Akita Inu poteva avere un esito drammatico. L'animale infatti è finito nel canale lungo via Argine Destro a Cartura e stava rischiando di affogare. L'intervento dei vigili del fuoco di Abano, alertati dai proprietari del cane, ha scongiurato il peggio. Sul posto sono arrivati anche la calappia cani e un veterinario. La squadra di pompieri è entrata in acqua con un gommone e ha raggiunto il cagnolino che è stato preso con un cappio e trascinato fino a riva. Yuki, questo il nome della bestiola, è stato asciugato e controllato dal veterinario e poi riconsegnato dai padroni.